vediamo vince vai, e vai, 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 va ... senti l'armonica , come va aspetta, facciamo vedereci , sei passato anche ... vai 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 ti hai rischiazzato il naso papirino eh , però ce l'hai fatta vai 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 piuttosto , qui qua qua? dove li hai lasciati? qui qua qua alia la andiamo giù a vedere se li troviamo più in giù adesso andate nella turistica qui qua qua e alia la